Arriba a Genova l'NH Hotel del Porto Antico, il primo Swap Party. Dopo il grande successo riscosso a Londra, New York, sbarca anche a Genova il cosiddetto Swap Party. Ci dica lei come si pronuncia. Swap Party, il baratto per essere poi alle portate di Genova, anche perché Genova diciamo che nasce col baratto. Il baratto dei nostri avi l'hanno creato e è stato portato, noi genovesi abbiamo pensato di farlo arrivare di nuovo a Genova. Ma non è un baratto come si può immaginare, questo è un discorso molto molto più interessante. Di cosa si tratta esattamente? Beh, si tratta di un ricambio anche degli armadi soprattutto. Persone che hanno un tailleur magari fatto dal sarto, puramente di una certa importanza, invece di metterlo nei cestini e cosa, vengono e se lo possono barattare con altre della loro taglia e tutto, come una borsa, le scarpe. E perché no gli uomini con le attrezzature sportive o le cinture o la cravatta che magari le è stata regalata e non le piace? E con questo può essere un'iniziativa per farlo. Svecchiare gli armadi ma anche svecchiare Genova, con una serie di nuove iniziative, modagliole e particolari. Asseventi è una nuova associazione che si propone soprattutto questa missione, giusto? Giusto, siamo giovani e siamo imprese già sul mercato di Genova da parecchio tempo, però ci siamo ritrovati seduti a un tavolo con le idee molto rinnovate, tutte uguali e con una meta precisa, creare qualcosa di innovativo su Genova. Lo swap party è solo il primo appuntamento di altri che verranno? Il primo appuntamento è mercoledì sera al NH Hotel, dove è anche la nostra sede. Dalle ore 17 alle ore 19 ci sarà la presentazione e la valutazione dei capi. E poi fino alle 23 ci sarà anche, per chi non ha lo swap, chi non vuole fare lo swap, possiamo fare la pericena, un incontro, un motivo per stare di più anche insieme e conoscerci.